Oggi, dal carrozziere. Salve, guardi, ho il paraurti tutto ammaccato. Ma che si può sostituire? Guarda, io voglio sostituire pure il paraurti. Il problema è che il paraurti è saldato con i fascioni. Dico, vabbè, allora mi sostituisca pure i fascioni. Guarda, io gli ho risostituire pure i fascioni. Il problema è che i fascioni sono saldati gli sportelli. Vabbè, allora mi sostituisca pure gli sportelli. Guarda, io gli ho risostituire pure gli sportelli. Il problema è che gli sportelli sono saldati col telaio. Poi mi dica lei. Guarda, io gli direi solo vaffa. Il problema è che vaffa è saldato col culo. Poi mi dica lei.